Mille e venti giri di piazza contro la fame del mondo. A percorrerli sono stati circa un centinaio di studenti dell'istituto Mazzini Capograssi, protagonisti dell'evento Emozioni in Movimento, che ha vissato successo e solidarietà. Una grande festa dello sport, dell'amicizia, della prossimità nella centrale piazza che si è resa possibile grazie alla straordinaria forza della scuola, che è stata una vera e propria agenzia educativa. La somma dei giri di plateatico ha superato quota mille. L'iniziativa, promossa ogni anno all'interno delle scuole italiane d'azione contro la fame, patrocinata dal CONI, rappresenta il progetto didattico, sportivo, solidale e più grande al mondo. A livello nazionale sono oltre 1.200 le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado che insieme a 900 docenti e coordinatori hanno scelto di aderire a un evento di sensibilizzazione e di sport che, dalla sua nascita, ha coinvolto in tutto il mondo più di 7 milioni di studenti di oltre 28.000 scuole, un vero e proprio movimento di studenti podisti.